Arrivare qui mi sento a casa, quindi le coordinate tecniche, le coordinate per il lavoro sembra di non essere mai andato via, perché è così. È normale che mi piacerebbe trasportare tutto questo mio entusiasmo, questa mia voglia di credersi a tutto quanto l'ambiente. Noi abbiamo bisogno, i primi a trascinare i tifosi dobbiamo essere noi, sia chiaro, con l'impegno. Io credo che i tifosi vogliono vedere una squadra che comunque si butta con la testa nel fango, è la prima cosa da fare, vogliono che la squadra dia tutto e questo dobbiamo farlo assolutamente, perché i primi a trascinare il tifoso è il nostro atteggiamento. Poi quando noi fessiamo il massimo il tifoso ci ripaga sicuro perché è gente sana, la nostra tifoseria è fatta di gente sana, di gente lavoratore, quindi noi abbiamo bisogno Alberto del nostro pubblico quanto prima. Per quanto riguarda il fatto di subietrare in corsa, conoscendo un pochino i giocatori, conoscendo anche i rapporti che abbiamo sempre avuto, non dico che sia relativamente semplice e comunque è meno complicato di andare da altre parti, questo sicuramente. L'unica cosa che dobbiamo avere Alberto, lo dico davanti a tutti, è che non dobbiamo avere alibi nessuno, nessuno deve averli. Io, i giocatori, tutti. Non possiamo guardarci indietro, dobbiamo solo guardarne avanti e dire che la cosa peggiore che può capitare è questa. Che io dica, non so, dove andiamo con questa squadra o il giocatore dice dove andiamo con questo, oppure che il Presidente dice ma bisognerebbe far così, oppure che diventa una confusione dove c'è un capo, c'è un Presidente, c'è un allenatore, c'è un gruppo dirigenziale, ci sono dei giocatori, ci sono delle mansioni e ci sono soprattutto degli entusiasmi reciprochi, reciproci da riportare. Su questo non si scherza, su questo proprio non si deve scherzare. Si muore in campo, si perde, ma si muore in campo. Su questo non si deve scherzare nessuno. Tutti devono fare lo stesso tipo di atteggiamento, su questo proprio non ci piove. Dobbiamo essere qui forti e la prima cosa da fare è questa, riportare entusiasmo, coraggio e orgoglio personale. Io in questa situazione qui non sono uno che gli piace parlare, mi piace molto lavorare, mi piace molto andare in campo con la squadra, stare lì e dare dei miei principi lavorativi. C'è ferma voglia di riportare entusiasmo, di riportare la gente allo stadio, perché solo così noi possiamo avere la possibilità di salvarci, perché la salvezza fa parte di tutti, è un patrimonio di tutti, di una città piccola come Pordenone, che però ha dimostrato a suo tempo, almeno quando eravamo insieme, con un entusiasmo galoppante di esserci al martedì il sold out, cioè non c'erano più biglietti, quindi il Bottecchia è stato il nostro fortino, la nostra forza. Ci spostiamo perché non è possibile farlo qui a Pordenone, però deve esserci questo tipo di messaggio, la gente sa che noi lavoriamo per mantenere questo tipo di spettacolo. Gli attaccanti che ci sono qua, questi che ci sono qua, mi piacciono tutti come caratteristiche, mi piace sia Saju, sia Silla, sia Buttic, però devono credere di più nelle loro possibilità e devono lavorare, devono sapere che tutto passa attraverso un tipo di lavoro, Strizzolo lavorava forte, Lecenco lavorava forte, ci facciamo due nomi a caso. Arma, qui ha fatto 21-22 gole se non ne ricordo, sbagliando quattro calci di rigore, però le squadre forti ce ne sono tantissime in questo campionato qui, quindi per noi il Pisa rappresenta uno scoglio veramente molto importante, però anche noi vogliamo andare a Pisa con uno spirito importante, di fare una importante, di essere comunque aggressivi, naturalmente è una squadra che ha fatto veramente benissimo, gioca insieme da molto tempo, ha giocatori che in questo momento sono veramente determinanti, con delle qualità che non sono io a discutere, quindi è normale che sia un esordio molto difficile.